ricordo che alcuni sintomi legati a cosiddetto keto flu sono normali e transitori i primi 3-4 giorni di solito sono di adattamento quindi il corpo deve fare questo switch metabolico tra l'utilizzare i carboidrati all'utilizzare i grassi si possono in quel punto a quel punto manifestare dei piccoli sintomi del mass di testa transitorio che può essere risolto con acqua sale e limone per esempio quindi aumentando il carico elettrolitico oppure un po di sensazione di stomaco mal di testa giramenti non è legato alle proteine in polvere ripeto ma è legato ad un meccanismo di switch insito e proprio della ketogenica soprattutto nei primi giorni quindi tranquilli